Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Luce e nuovi dettagli per la sua scomparsa. Gioca un ruolo importante Leonora Daniele, ecco cosa è venuto a galla Gli ultimi giorni sono stati davvero molto tristi proprio per lei, e Leonora Daniele, che ha dovuto fare i conti con la vita E con quanto questa possa essere fragile è spezzarsi da un momento all'altro E così, la conduttrice, ha dovuto per sempre dire addio a lei. Attrice, cantante e conduttrice a cui ha voluto molto bene in quanto le due donne erano legati da un grandissimo rapporto di amicizia Ed è proprio in suo onore che Leonora Daniele ha voluto dedicare un'appuntata nel suo programma Storie Italiane Un appuntamento mandato in onda domenica 18 aprile, che ha tenuto incollati milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo In quell'occasione abbiamo assistito anche all'intervento di Agnes, sorella della donna che ci ha appena lasciati Inutile dire che Leonora, nel momento in cui si è trovata di fronte il volto triste di Agnes, ha immediatamente provato un infinito senso di malinconia Ricordando proprio tutti quei momenti trascorsi insieme alla grande attrice Eleonora Daniele e i particolari sulla sua scomparsa.La scomparsa di Krin Spak ha sconvolto tutti i suoi fan, senza dimenticare quelle persone che hanno lavorato con lei Eleonora ricorda Krin come una donna elegante e pronta sempre a porgere la mano per aiutare il prossimo Gli ultimi anni della vita dell'attrice sono stati decisamente molto difficili, proprio a causa di questa terribile malattia che l'ha strappata da tutti i suoi affetti La sofferenza ha sempre fatto parte della sua esistenza, un qualcosa con cui ha dovuto fare i conti nel momento in cui le è stata tolta la figlia Sabrina Oppure quando, vittima di molestie, ha voluto denunciare l'accaduto senza però essere creduta da nessuno Soltanto dopo molti anni ha ricevuto le scuse da parte di quegli attori che hanno trattato Krin Spak come un oggetto Eleonora Daniele ricorda Krin Spak mettendola sotto una luce diversa, un carattere nascosto che nessuno mai si sarebbe aspettato La conduttrice racconta infatti che, ogni qualvolta rendeva pubblica la storia di donne in difficoltà, Krin puntualmente le scriveva Qui le chiedeva se potesse fare qualcosa per aiutare queste povere persone È un lato di Kering che pochi conoscono, in quanto da sempre lei è stata molto riservata, una caratteristica che l'ha resa una donna molto elegante e somria Dall'intervento della sorella Agnes al programma Storie Italiane, scopriamo anche quella che è stata la causa della morte di Krin Spak Il tutto ha avuto inizio pochi mesi fa, quando Krin è stata colpita improvvisamente da un ictus Questo brutto male le ha causato una paralisi del lato destro, impedendo addirittura all'attrice di parlare Sono stati giorni davvero molto duri, un vero e proprio calvario per Krin Spak Che riposi in pace.Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao